Buongiorno a tutti. 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 no switch la tolato non ci passate si deve essere un altro da un altro piacere guarda grazie a tutti un'acceggiore di sito i nostri amici per me preparati un'ottola a chatello questo è tutto che ti vedo un'ottocchio io faccio un'ottocchio 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 che non si prende un'ottocchio L'030, il mio 15 minuti fermi, il mio 15 minuti provano. Kanno? Sì, non è possibile che sanno. Questi color, stessi colorate. Come off, stessi colorate. Poi fare. Ora siamo dei miei roti? La vista è che non è ancora. Ora si è poi adda. Viene piacere. Ci sono fatti creare. Oh My God! Ci sonova 4 stelle? Per. Ottieni. La questa è la stessa. non ci sono a che senti e adesso che ho fatto un pepsi e mi senti molto molto mi senti quindi poi pepsi sono inizia e mi senti e mi senti e mi senti e mi senti mentre ho fatto ora ho fatto un'applico subscribe ciao io ho ragazzi rai tra la sua ragione e il nostro obiettale ora non sono tutti i miei e allora un po' di loro parlare io ho ragazzo io ho ragazzo ora passiamo dando un po' di questo un po' di questo allo in merito let's go in merito ora siamo 6 ore 2 ore ok la mano camera i minuto molto bene Scriviti al nostro canale e se e e e e ora 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 la 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 iscriviti iscriviti can vi can vi can vi can vi c'è è ma non lì to ronamotti è meri paio to like right miltete l'eveloci sat bye bye Grazie a tutti.